Via i due punti di penalizzazione, annullate le squalifiche di Paolo Cannavaro e Gianluca Grava. È una sentenza sorpresa quella che arriva al termine della Camera di Consiglio della Corte di Giustizia federale, riunitasi questa mattina a Roma per pronunciarsi il merito al ricorso della società sportiva Calcio Napoli. Il tutto è legato alla gara Sampdoria-Napoli del 16 maggio 2010 e a una presunta combin che Matteo Gianello avrebbe architettato parlandone con i difensori Cannavaro e Grava. Il procuratore della FIGC Stefano Palazzi aveva chiesto un punto di penalità per il club azzurro da scontarsi in questo campionato per responsabilità oggettiva e sei mesi di squalifica a testa per i calciatori attualmente in rosa per omessa denuncia. Per Gianello invece la richiesta era di tre anni e tre mesi. Oggi però la sentenza che ribalta tutto. Una sentenza che riporta gli azzurri al secondo posto in classifica e permette a Cannavaro e Grava di tornare nuovamente in campo. Ridotta invece la squalifica per Gianello, 21 mesi. Il presidente Aurelio de Laurentiis questa mattina aveva pronunciato la sua ringa difensiva definendo la sentenza di primo grado ingiusta e le accuse infamanti. Da par suo Palazzi aveva prima calcato la mano contro le ringhe difensive salvo poi sottolineare tutte le attenuanti del caso. Da Roma, Michele Pilla e Luigi Liberti per l'agenzia Partenopress.